Gentili telespettatori, buona giornata. L'Europa, l'Ungheria non è più una democrazia. L'annuncio atteso domenica stoppa al 20% degli stanziamenti dell'Europa verso l'Ungheria. L'Europarlamento chiede di limitare il diritto di voto a Budapest. Chi è contrari a questa decisione? Chi sono i contrari a questa decisione che sta prendendo l'Europa? Lega e Fratelli d'Italia. L'Unione Europea vuole punire l'Ungheria. È in contrasto con Bruxelles. Non solo sui rapporti con Putin, ma anche sui principi fondamentali dell'Unione Europea. La Commissione Europea domenica annuncerà che taglierà i fondi destinati al governo di Viktor Orban. Oggi l'Europarlamento ha votato una mozione che condanna il governo di Budapest, che non è più una democrazia compiuta. Quindi l'Europa ha deciso, a maggioranza, che l'Ungheria, che fa parte dell'Europa, non è più una democrazia. È qualcosa di diverso. Hanno votato contro i parlamentari italiani di Lega e Fratelli d'Italia, innescando una polemica italiana ed europea. Vi devo dire che io non sono un esperto di Ungheria. Credo che la maggior parte degli italiani non sappia neanche dove si trova. Se io vi chiedo dove è l'Ungheria, voi lo sapete. Vicino la Svizzera, sotto l'Austria, sopra l'Austria, a destra, a sinistra, vicino la Finlandia o vicino la Francia. Tra la Francia e il Portogallo. Dove cavolo è l'Ungheria? Io, da parte mia, non sono un esperto di Ungheria. Quello che dice Orban o non dice Orban, a me personalmente, me ne può fregare di meno. Perché io commento principalmente i fatti italiani, di politica italiana. Ce ne ho abbastanza con la politica italiana. Ho aperto, credo, una trentina di articoli, che poi rimangono lì, dovrò cancellarli definitivamente. Non riesco a parlare bene della politica italiana, perché ci sono più notizie di quello che io riesco a fare ogni giorno come video. Pertanto che io mi interessi dell'Ungheria se è una democrazia o no, io realmente questo non ve lo so. Dire sotto quale aspetto l'Ungheria viene definita o no una democrazia. Sotto quale aspetto? Orban è un dittatore che ha soppresso il voto, ha soppresso il Parlamento, ha chiuso gli organi di stampa. Che cosa significa che l'Ungheria è da tempo, dicono, sotto processo dall'Europa a causa di alcune leggi approvate da Orban, ritenute in contrasto con lo Stato di diritto in un documento del 20 luglio. Il commissario al bilancio, Han, ha prospettato la sospensione di circa il 70% dei finanziamenti in alcuni programmi dell'Unione Europea. 8,8 miliardi pari al 20% del budget 2021-2027 destinato a Budapest. In particolare, relativo agli appalti pubblici, una decurtazione definita proporzionata. Il Collegio dei Commissari si riunirà domenica invece del solito mercoledì, in quanto la presidente von der Leyen la prossima settimana sarà a Londra per i fu... e così poi si recherà a New York. A Bruxelles la Commissione si appresta a punire Budapest agendo sulla leva finanziaria. A Strasburgo l'Assemblea parlamentare ha usato quella strettamente politica. Il rapporto approvato ieri definisce l'Ungheria una minaccia sistemica. Addirittura l'Ungheria è diventata una minaccia per il sistema Europa e per i valori dell'Unione Europea. Dicono che ha preso forma un regime ibrido di autocrazia elettorale, ovvero un sistema costituzionale in cui si svolgono le elezioni ma manca il rispetto di norme e standard democratici. In particolare destano preoccupazione l'indipendenza della magistratura, la corruzione, i conflitti di interesse e la libertà di espressione, compreso il pluralismo dei media. Altre aree che destano preoccupazione sono, dicono dall'Europa, sono le libertà accademiche, la libertà di religione, la libertà di associazione, il diritto alla parità di trattamento, i diritti delle persone e i diritti delle minoranze, dei migranti, dei richiedenti asilo, dei rifugiati. Grande scalpore hanno fatto alcune leggi che ha approvato in questi ultimi due mesi. L'Europarlamento chiede in particolare di attivare l'articolo 7 del Trattato dell'Unione Europea. Prevede la possibilità di sospendere i diritti di adesione all'Unione Europea, ad esempio il diritto di voto in sede di Consiglio, in caso di violazione grave e persistente da parte di un Paese membro dei principi sui quali poggia l'Unione. Una conseguenza estrema ma che, come detto, non ha trovato l'accordo le delegazioni di Lega e Fratelli d'Italia a Strasburgo. Salvini dice Mi occupo di Italia e vorrei salvare i posti di lavoro in Italia, lascio ad altri occuparsi di Ungheria, Turchia, Russia, Cina. Io sono pagato dagli italiani per risolvere i problemi degli italiani. Dice Il voto di oggi al Parlamento europeo fa chiarezza una volta ancora per chi non lo avesse capito. Fratelli d'Italia e Lega sostengono la non-democrazia illiberale ungherese di fronte alle violazioni dello Stato di diritto che costituiscono ormai un tratto strutturale di quel regime. Sono invece le parole di Riccardo Maggi, presidente di Più. Europa. Non vi so dire realmente, perché l'Europa dice che è una dittatura ibrida, una sorta di autarchia, un regime ibrido di autarchia elettorale. Realmente non ho elementi oltre quelli che vi ho letto per poter dirvi la mia opinione se realmente è un regime quello di Orban, è un'autocrazia. Autocrazia vuol dire una dittatura. In questi mesi non parlano più di dittature nel mondo, ma parlano di autocrazie. Voi sapete che dopo un po' il pensiero comune, il politicamente corretto, fa diventare i termini non più da utilizzare perché hanno poi dei risvolti offensivi. Dittatura a chi? Autocrazia. Beh, insomma, ecco, dice mi hai detto dittatore? No, ti ho detto autocrate. Ah, beh, autocrate, insomma. Ma cosa vuol dire? Ecco, oggi l'autocrate è il dittatore, l'autocrazia è la dittatura, ma adesso si chiama autocrazia, perché è un termine nuovo, la gente non sa cosa vuol dire. Dice sei un autocrate. Vabbè, come dici tu, ma cosa vuol dire esattamente? Ecco, insomma, oggi dire autocrate non soffende nessuno. Fra qualche anno cambierà anche questo e diventeranno, la parola verrà cambiata a un'altra. Grazie a tutti e arrivederci a presto.